Buongiorno, sono Norman Tassin, direttore commerciale di Ryzenplatz. Ryzenplatz è un fornitore di servizi per le agenzie di viaggi. Noi forniamo hotel, transfer, tour e autonoleggi per tutte le agenzie di viaggi. La peculiarità di Ryzenplatz è che noi lavoriamo con tutte le agenzie di viaggi nel mondo, quindi non solo in Italia. In Ryzenplatz le agenzie di viaggi hanno la possibilità di trovare non solo tantissimo prodotto, perché abbiamo oltre 1.600.000 hotel dentro il nostro sito web, ma inoltre le agenzie di viaggi hanno la garanzia che noi ogni pronotazione la ricontrolliamo 5 giorni prima direttamente con la struttura, in modo che i clienti finali non abbiano problemi di overbooking o di cambi di camera senza essere una conoscenza oppure conoscere direttamente la problematica sulla struttura. Questo dà un vantaggio enorme non solo all'agenzia di viaggi, ma anche al consumatore finale che sa prima della partenza esattamente come finirà la propria vacanza. È un valore aggiunto molto importante che viene dato non solo dalla tecnologia che abbiamo all'interno di Ryzenplatz, ma anche dalle risorse umane che abbiamo all'interno della nostra azienda che sono estremamente importanti. Il canale agenziale per noi è l'unico canale, il canale preferenziale. In Ryzenplatz le agenzie di viaggi possono trovare veramente la garanzia della pronotazione in qualsiasi paese del mondo e di qualsiasi paese del mondo voglia pronotare l'agenzia di viaggi. Quindi che l'agenzia di viaggi si trovi in Italia o in altri paesi, Ryzenplatz dà garanzia della vacanza.